Bordighiera TV oggi incontra a Villa Ormond Francesco Guasti, è una delle giovani proposte che troveremo al Festival di Sanremo sul palcoscenico del Teatro Ariston, un palcoscenico molto prestigioso che sicuramente ti darà delle forti emozioni. Vorremmo sapere come hai vissuto la serata di ieri sera e che cosa ti aspetti dal Festival 2017. È stato un insieme di emozioni ieri, c'è stato un po' di rabbia, un po' di gioia, un po' di... un po' un insieme di situazioni, quindi sono state tante cose mescolate. Mi aspetto sicuramente di poter far sentire più possibile la mia canzone, Universo, che parla un po' della mia generazione, trentenni, che spesso gli viene detto di essere un po' vecchi per sognare, io invece non ho mai smesso di sognare, dopo la bobbatosta anche dello scorso anno dove ero arrivato tra i dodici ma non ero riuscito a salire sul palco, quest'anno ce l'ho fatta, quindi mai arrendersi e cercare di prendersi il proprio futuro. Da dove vieni tu? Io sono toscano, vengo precisamente da Prato, Prato, città del tessile tra l'altro. Bene, grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi, lunga vita al lupo, sempre. Grazie. Grazie.